Signori che notte! La telecamere di Videocalabria, siamo in diretta! Signori che non è su, il partito di Simona Mosterianni, il primo è grosso, il nuovo è l'ultimo! Pudienza, pudienza, pudienza in the end! Le mani su, le mani su! Questo è il nuovo in canale! Buongiorno Simone! Buongiorno Simone! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno Simone!